Siamo un ponte su quello che è lo sviluppo dei prossimi anni, quindi è nostra responsabilità, è nostra opportunità coglierla e diventare protagonisti. Il Piano Mattei è una politica industriale che ci porta in maniera concreta a poter investire in Africa e a poter collaborare. Credo che oggi sia uscito un concetto importante che è insieme, quindi collaborare, lavorare insieme con l'etica e la visione di impresa e della cultura di impresa che contraddistingue da sempre il saper fare italiano.